Ciao, stiamo vivendo un momento di grandi contrasti nell'ambito della censura e della libera informazione. Da un lato l'arresto di Pavel Durov che ha creato Telegram, le minacce a Rumble, i concerti di Povia annullati, dall'altra parte Zuckerberg che ammette di aver dovuto fare censure su Facebook, su Meta e su Instagram. L'intervista incredibile di Vanni Fraiese che rimane lì e la stanno guardando centinaia di migliaia di persone, poi gira dappertutto nel web, i clip girano dappertutto. Ma cosa sta succedendo? C'è anche una spiegazione astrologica e la dà Federica Francesconi. Nel suo canale Telegram scrive Mercurio retrogrado dietro gli attacchi alla libera informazione. Perché gli attacchi alla libera informazione? Lettera di minaccia del commissario dell'Unione Europea al CEO di X, cioè Elon Musk, l'arresto del CEO di Telegram, Pavel Durov, minacce di arresto al CEO di Rumble. Perché sono avvenute nell'ultime due settimane? La ragione è anche astrologica. Il 5 agosto Mercurio, il pianeta della comunicazione, è ritornato in posizione retrograda e ci resterà fino al 28 agosto. Per un'illusione ottica vedremo Mercurio camminare all'indietro anziché proseguire il suo cammino nella volta celeste. Gli effetti negativi ci sono fatti sentire sul piano della libera informazione con attacchi senza precedenti e azioni di censura del libero pensiero. L'astrologia è una scienza nobile, purtroppo ridicolizzata e associa alla pratica dozzinale degli oroscopi e delle divinazioni. Essa si fonda sulla legge di corrispondenza tra micro e macrocosmo. È per questo motivo che l'elite compie determinate azioni in determinati momenti propizi dal punto di vista astrologico. Contemporaneamente però cosa succede? Home page del Corriere della Sera. Zuckerberg. Pressione dal governo Biden per censurare i post sul covid su Instagram e Facebook. In una lettera inviata al comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti degli USA, il CEO di Meta si è detto rammaricato per aver assacondato la Casa Bianca. Tra il 2020 e il 2021 Facebook ha rimosso 20 milioni di post. Quindi, come vedete, non tutte le pentole riescono bene, insomma, non tutte le cose del diavolo riescono bene, no? Ok? Poi, ad esempio, l'incredibile intervista che sta avendo consensi pazzeschi, come ho detto prima, a Vanni Fraiese. Allora, prima che censurano di nuovo l'informazione, eccetera. Beh, siccome stanno sbandierando ovunque il vaiolo delle simbie, vi dico quale sarà la cura. Due banane e vigile attesa. Poi vi diranno dove mettere banane. Per politici e giornalisti, invece, asserviti all'agenda 2030, la cura è un po' più strong. Quattro banane, niente vigile attesa e da usare subito, ecco. Quindi, buona giornata.